La mafia non dimentica, odio e vendetta non vanno in prescrizione. Il processo al clan Spada di Ostia, quartiere litoraneo di Roma, ha visto le prime condanne, ma Federica Angeli vive ancora sotto scorta, da quando nell'estate 2013 denunciò un episodio di sangue consumato sotto il balcone di casa tra famiglie e rivali. E al mattino seguente la sua vita era già cambiata, autoblindata e quattro carabinieri che attorno non la lasciano mai sola. Il racconto dell'autrice di A Mano Disarmata e il gioco di Lollo fatto a Lanciano davanti ad una platea attenta e partecipe di studenti e giornalisti venuti anche da Chieti e Pescara. La giornalista di Repubblica continua a scrivere di mafia nella sua città, le minacce non l'hanno fermata, neppure la benzina messa sotto il portone di casa dove è rimasta a vivere con il marito e tre figli che condividono con lei la battaglia per la legalità. È stato il mio punto di forza e il mio punto debole allo stesso tempo. Il mio punto debole è perché la scelta l'ho fatta io di intraprendere questa battaglia contro la mafia ed è ricaduta su di loro che non avevano scelto. E allo stesso tempo la forza di proteggerli, quindi di lottare con tutte le mie forze perché quella scelta avesse appunto un esito positivo per loro e non tragico come purtroppo per molti altri colleghi o magistrati importanti è stato. Dal 2013 al 2018 dalla denuncia si arriva al processo, poi alle prime condanne, ma tutto questo sarebbe stato possibile senza le inchieste di Federica Andrini? Beh, non sta a me dirlo. Io quello che posso dire è che il risveglio delle coscienze più ancora di un esito giudiziario è quella che è la mia più grande soddisfazione professionale e in quello forse sì c'è stato molto da parte di Federica Angeli perché gli arresti servono, sono importanti ma serve un risveglio sociale per combattere la mafia. L'argine è proprio alzare la testa, parlare piuttosto che vivere nel silenzio come gradiscono le mafie ed ecco perché posso dire sì di aver vinto in un certo modo quando vedo la mia ostia che dopo un primo momento di ostilità ora ha gli anticorpi per proteggersi da qualsiasi altro clan dovesse mai arrivare perché ovviamente arriverà, è fisiologico. L'incontro di Lanciano è stato introdotto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Sì, è stato un incontro affascinante, del resto lei come altri 18-19 giornalisti che vivono sotto scorta rappresentano un po' il simbolo della nostra professione, del risultato scatto della nostra professione, attraverso di loro passano anche le speranze di una rinascita del giornalismo, un giornalismo di qualità, un giornalismo di inchiesta, ma anche la dimostrazione che senza questi giornalisti o senza il giornalismo in generale non si possono vincere le battaglie contro la criminalità, non si possono vincere le sfide della democrazia, non si possono vincere le conquiste sociali e civile. Senza un'opinione pubblica giustamente, correttamente informata non si cresce sotto nessun profilo e per crescere c'è bisogno di questo tipo di informazione, di questo tipo di giornalismo e quindi viva le Federica Angele, viva tutti i colleghi che sono sotto scorta in questo momento.